Bentornati su Vapers for Passion. Oggi vi parliamo del Mesmerize 2 by Pipeline. Ecco qua il nostro Mesmerize 2 totalmente smontato, andiamolo ad assemblare pian piano per capire meglio come è composto il nostro atom. Abbiamo intanto la base del nostro atomizzatore, già vediamo che il pin è bello sporgente per usarlo ovunque, questa linguetta è la regolazione dell'aria, abbiamo la regolazione dell'aria Tile Q16 Pro, quindi questa linguetta che basterà semplicemente girarla per poter regolare il flusso, così è tutto aperto, così è tutto chiuso. Bel sistema però una volta montato sulla box non sempre riuscite a grippare come si deve, a volte vedete anche adesso fate un pelo di fatica. Vedete che qui è filettato e qui abbiamo il nostro connettore perché abbiamo la possibilità di montarci due diversi tipi di inserti. Il primo è questo che ci consente di utilizzare delle coil mesh proprietarie del valore di 1,8 ohm. Dicono che le 0.5 del primo Mesmerize siano compatibili, non ho mai visto il primo, non ho mai avuto, non ho queste coil, non ve lo so dire, parlo per sentito dire. La coil è inserita a pressione nella parte sottostante e gli o-ring di questo atomizzatore ragazzi sono veramente duri. Infatti adesso a secco togliere la coil come si dovrebbe da sotto risulta molto molto difficile, vedete che è una fatica assurda. Ovviamente per inserirla la infilate da dove l'abbiamo appena tirata. Senza saperlo non avrei mai detto che fossero coil a mesh perché non danno quel classico effetto stradolce che danno di solito le mesh coil e non credo abbiano chissà cosa da invidiare rispetto alle BVC del Nautilus. Forse queste ultime appena citate vincono ancora per l'IT, ma per il resto siamo praticamente lì. Abbiamo poi il nostro deck rigenerabile, la nostra RBA. Chiaramente vale per questo, ma vale anche per l'inserto per le coil. Lo andate ad avvitare in questo modo qua. Questo è un air pin che vedete che porta su. In questo momento ho montato quello che c'è nell'esper da 1,5 ma quello montato di default è da 2 mm. Acquistabili a parte ci sono anche da 1,2 e 0,8. Parere personale per me non ha un grandissimo senso prenderli perché già con quelli in dotazione riuscite a giostrarvi molto molto bene secondo me. Per sostituire l'air pin svitate. Se fate fatica inserite un qualsiasi oggetto in questo foro e ovviamente vi fate sostegno. Svitate l'air pin e inserite l'altro. Ovviamente l'air pin tiene la torretta, vedete? Quindi non effettuate quest'operazione anche perché sarebbe molto difficile, però col tank pin e quant'altro fatelo sempre con il tutto smontato. Adesso rimettiamo l'1,5 che è quello che voglio usare oggi anche perché è il mio preferito. Ecco qua il nostro deck, post contrapposti, viti con inserto a taglio, torrette già mozzate in modo che inserire la coil è veramente veramente semplice. Vedete la posizione delle asole del cotone. Ho provato a rigenerarlo sia con la coil dritta che con la coil storta, punta da 2,2,5. Con la coil leggermente storta in modo che segue il verso delle vaschette mi è sembrata la soluzione migliore perché con la punta da 2,5, poi con la 2 non avete mai problemi in qualsiasi modo mettete, ma con quella da 2,5 mettendola esattamente dritta, la curva che si viene a creare molto brusca per arrivare fino alla fine delle nostre asole o comunque proprio per inserire il cotone all'interno può far capitare che nonostante il sistema alimenti veramente bene, il liquido sale e si blocca in questo punto e non arrivi ad alimentare la coil. Quindi punta da 2 come cavolo vi pare, punta da 2,5 piuttosto che dritta, la mettete un po' più inclinato oppure se la mettete dritta prestate particolare attenzione al cotone. Prima di riassemblare l'atom lo andiamo già a montare, ma attenzione. Se ci seguite su Instagram sapete che tutti i giorni a mezzogiorno nelle storie facciamo un sondaggio. Il sondaggio di oggi era, per la recensione delle mesmerize con tabacco aromatizzato uso una punta da 2 o una punta da 2,5? Ecco i risultati del sondaggio, il 76% di voi ha votato punta da 2,5, quindi andiamolo a buildare con una punta da 2,5. Prendiamo quindi il nostro Cantal 28 Gauge, girate le nostre 6 spire appunto su punta da 2,5, inseriamole nel nostro deck. Rimuoviamo le eccedenze di filo, prestateci molta attenzione, se no la campanina dell'RBA che vedremo dopo tocca e vi fa corto. Per me questa altezza va benissimo per il posizionamento della vostra coil. Andiamo ad inserire il cotone, chi ci segue lo sa usiamo il Wicked Wixxel, cotone della Shreger. Per quello che riguarda la lunghezza del cotone, semplicemente tagliate a questa lunghezza. Se usate la punta da 2 mettetene un pelo di più, specialmente se lo mettete ad esse, mettete un pelino così di più, in modo che lo accompagnate fino a fondo vaschetta. Per provare il nostro atomizzatore stranamente usiamo il Sandman della linea Silence di Iron Vapor, che è un tabacco e limone in formato 20 ml da portare a 60. A questo punto ecco la nostra campanina, con la nostra scritta RBA. Vedete vari segni perché più volte mi si è incagliato e dovuto usare dei diabolici marchigegni per sbloccarlo. Vi fermate a battuta. Prendiamo poi il nostro vetrino della capienza di 2 ml e lo inseriamo in questo modo qua. Acquistabile separatamente c'è anche questa espansione per portare la capienza fino a 6 ml, che si avvita qui in questo modo qua, in modo che ci andate poi ad avvitare sopra questo. Solo che vedete avete 6 ml ma diventa poi decisamente alto. Senza espansione a questo punto prendete questo componente che sarebbe poi quello del refill e lo avvitate. Filettature, qualità costruttiva decisamente, decisamente, decisamente buoni, niente da dire. Questa è la nostra zona di refill, adesso vi faccio vedere in che modo è chiuso. Questa è la membrana tramite cui effettueremo il refill. Quella che vedete era fornita nelle spare parts, visto che originariamente c'è questa. Ma ci si imbratta comunque di liquido un casino in entrambi i casi. Con quella sostitutiva, con i due fori, un pelo meno. Anche se il problema di quella è che vi fa le bolle d'aria. Dopo che avete refillato, chiuso, usato l'atom, quando riaprite per riempire, troverete le bolle d'aria. Con la membrana, invece, proprio gran porcaio, gran sporcizia, ci si imbratta un sacco. Il sistema di refill non mi è piaciuto. Infatti adesso che è lavato, pulito, non c'è problema. Anche se comunque vedete che per la forma, così state già sbattendo. Con alcune boccette, quando siete alla fine, è un po' problematico effettuare il refill. Oltre che appunto adesso tutto ok, ma durante l'utilizzo, quando l'avete usato e andate ad aprire, ci sono le bolle d'aria, quindi comunque in qualsiasi caso vi immerdate fisso. Questo è il componente finale che va a chiudere il nostro atomizzatore, che vedete ha uno e due dentini che si vanno ad incastrare qui. Quindi impuntate, una volta che è impuntato, girate, è una chiusura tipo AL. Da chiuso per aprirlo dovete fare così. Girate, tirate su e avete accesso al refill. Vedete che comunque è ballerino. Non dà problemi, però non mi dà molto senso di solidità. Quindi ta 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 ta. Solo che ogni volta che farete questo, come dicevo prima, troverete questi due fori con due belle bolle d'aria. Per finire abbiamo poi il nostro tip 510 in Delrin rivestito dello stesso acciaio inossidabile, che è il materiale con cui è costruito tutto l'atomizzatore, che ha i due O-ring esternamente. Per questo tip hanno pensato una bellissima cosa, cioè il tappino. Vedete che se volete coprire il tip, tac, così è coperto. Attenti però che se lo state usando da un po', quindi si forma la condensa, quindi le tolleranze degli O-ring sono chiaramente più morbide, rischiate che quando tirate il tappo vi portate via anche il tip e toglierlo. Non è proprio comodo voi. Ma quando gli O-ring sono asciutti per la tolleranza ottima che hanno, vedete che, tac, si toglie senza alcun problema. Quindi ecco qui il nostro Mesmerize completamente pronto, rigenerato, liquidato, che ha un diametro di 22, un'altezza di 29 mm, escluso il tip per un peso di 48 grammi. Come abbiamo visto punta da 2,5, foro sotto coil da 1,5, 4 volte in erogazione su una coil da 1,02, tutta l'aria aperta. Intanto l'atomizzatore sta sui 35-40 euro, l'espansione sta sui 10, poco più, gli arpini non mi ricordo, completo di tutto, 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 stiamo più o meno sui 60 euro, però si parte dai 35-40. Gran qualità costruttiva per quello che riguarda la fascia di prezzo, veramente molto molto buona, anche se tutte queste filettature ogni tanto qualcosa si ingrippa, ma la scorrevolezza dei filetti, materiali, le finiture, tutto molto 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 bello, specialmente in questa fascia. Mi dispiace solo che sia molto macchinoso, perché avrete già capito da voi, assemblandoli insieme, che se voglio avere accesso al deck, devo smontare la parte di sopra, rimuovere il vetro, rimuovere la campana, quindi qualsiasi operazione non la potete fare col serbatoio pieno, dovete comunque smontare tutto l'atom, vi sporcate, non mi ha convinto particolarmente sotto questo aspetto. Come il sistema di refill, il sistema di refill non mi è piaciuto per niente, molto molto poco pratico per quello che mi riguarda, quindi bocciato totalmente. Bella la regolazione a linguetta, però è veramente troppo sotto, quindi oltre che difficoltà di regolazione, vi trovate, comunque non dico spesso, però comunque vi trovate i residui di condensa sulla box in maniera abbastanza più evidente rispetto ad altri atomizzatori, però per quello che riguarda la resa sono veramente, veramente soddisfatto, perché è una grandissima resa. Vi dico molto in breve tutte le prove che ho fatto, intanto per quello che riguarda i posizionamenti, già vi ho detto prima, appunto a due, due e mezzo, come gestirvi la coil per il discorso cotone, eccetera. Con il foro sotto coil da due ho provato con lo stesso identico setup, il liquido che ci sto provando adesso, e un Virginia. La prima prova è stata il Virginia, appena ho fatto il primo puff, ero con un mio amico, proprio ero gran resa, perché comunque tende un pelo al dolce, ma al tempo stesso comunque non lascia indietro le note. E con i tabacchi singoli, in generale, per me è uno dei più versatili in questa fascia di prezzo, perché con tutti i chiari va da dio, punta da due, due e mezzo, preferenza personale di come piace a voi. Però mettendo l'herpin sotto da uno e mezzo, con una punta da due, allora non è proprio il cavallo di battaglia di Faircured, cioè comunque escono addolciti, non escono proprio a dovere come dovrebbero, specialmente il Latakia, non è per niente atomo da Latakia, ma già un Kentucky, con una punta da due, con l'herpin sotto da uno e mezzo, diventa accettabile. Ripeto, non è il suo cavallo di battaglia, ma di atomizzatori che hanno come cavallo di battaglia singoli, chiari e aromatizzati, come per me questo, è uno di quello che rende meglio con i tabacchi Faircured. Per quello che riguarda gli aromatizzati, tende un po' ad amalgamare, ma al tempo stesso comunque il tabacco non viene messo da parte, rimane comunque scandito e non è tanto addolcito, questa cosa mi è piaciuta molto. Per il fatto che tende ad amalgamare, comunque misture non ne ho provate, non lo reputo un atom da misture, magari mi sbaglio, però è una prova che non ho fatto, però con gli aromatizzati veramente va molto bene, e poi ragazzi punta due, due e mezzo, dritta, storta, ve la gestite voi in base ai vostri gusti. Quindi questo è il perché dell'atomizzatore, se siete utenti avanzati o comunque che già hanno la mano fatta con gli atomizzatori rigenerabili e vi interessano questa tipologia di tabacchi, sicuramente può essere un acquisto interessante. Se siete un po' più novizi, secondo me un po' macchinoso con quello che offre il mercato, riuscire a trovare qualcosa che vi renda la vita un po' più facile. Detto questo, io sono Cato e ci vediamo nel prossimo video di Vapers for Passion. Ciao!